Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. Sulla statale 12 della Betone e del Brennero, traffico rallentato per una nevicata in corso tra Cutigliano e Dogana Nuova. Per lo stesso motivo rallentamenti anche sulla statale 63 del Valico del Cerreto, dove la neve sta cadendo tra Fivizzano e il Valico. Traffico regolare sul resto della rete stradale ed autostradale della regione, fare però attenzione per la pioggia che sta cadendo su tutta la Toscana. Per quanto riguarda la viabilità cittadina a Firenze per i lavori alla linea 3 della tramvia, da domani è in programma il ribaltamento del cantiere in via Vittorio Emanuele II nel tratto via Alderotti via Maestri del Lavoro. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!